Ha presentato il suo programma in vista delle prossime elezioni del Presidente della Provincia di Arezzo e del Consiglio Provinciale che si svolgeranno domenica 12 ottobre, il Sindaco di Bibiena Daniele Bernardini, che avrà come unico sfidante il Presidente uscente Roberto Vasai. Sono tre invece le liste che sono state presentate per il Consiglio Provinciale, quella del Partito Democratico, la lista Progetto Arezzo-Movimento Democratico e la lista Insieme per Arezzo. Le prime due appoggiano Vasai, mentre quest'ultima Bernardini. Non possiamo permettere che anche un ente territoriale come la provincia sia occupata dai partiti, quindi sia oggetto di una occupazione partitica, come avviene poi, come è avvenuto sempre per tutti gli enti. Parliamo degli ati, ho parlato di acqua, rifiuti, trasporti e quant'altro. Quindi questa provincia, così con la riforma c'è stata, che io non condivido francamente, è diventato un ente di secondo livello. E come tale dovrebbe essere espressione dei comuni e dei territori e non dei partiti. Rischiamo con questo tipo di elezioni veramente che sia oggetto di una spartizione partitica. Questo non lo possiamo permettere, non lo vogliamo permettere. Vorremmo trasportare a livello provinciale l'esperienza di Bibiena e altre liste civiche della provincia. Ad appoggiare la lista insieme per Arezzo c'è la consigliera provinciale uscente Maria Piacamaiti. Mi hanno chiesto di ricandidarmi e sono l'unica consigliera provinciale uscente proprio per continuare il lavoro svolto in questi cinque anni. Cinque anni sembra che siano tanti, ma sono pochi perché nelle amministrazioni pubbliche, nelle province, purtroppo la burocrazia è padrona e quindi logicamente ci vuole del tempo per arrivare a svolgere un programma. Ecco perché io mi sono voluta ricandidare. I punti da portare avanti sarebbero tanti. Io per esempio sono della Valtiberina. Noi in questi cinque anni, essendo un gruppo anche molto unito, molto coeso, abbiamo portato avanti diversi programmi della Valtiberina. Pensiamo al Lago di Montedoglio, pensiamo alle scuole, pensiamo alla viabilità. Quindi queste sono tutte cose che noi, insieme al mio gruppo che era PDL, abbiamo portato avanti in questi cinque anni.